Come si è sviluppata la medicina moderna? Dobbiamo fare un piccolo balzo nel passato. L'uomo, sin dai tempi più ancestrali, cercava di arginare le patologie. Il padre indiscusso della medicina è Ippocrate, il cui giuramento ad oggi è il testo medico più conosciuto in Occidente e recitato dagli studenti di medicina e di odontoiatria il giorno della laurea. Durante gli anni la medicina moderna si è però anche macchiata di terapie inutili come erbe, salassi e così via. Dall'epoca di Ippocrate al XIX secolo inoltrato la medicina serviva solo ed esclusivamente a distrarre il malato in attesa della sua guarigione o della sua morte. Secondo il filosofo francese Voltaire i medici erano uomini che prescrivono farmaci che conoscono poco per curare malattie di cui sanno ancora meno in corpi che non conoscono affatto. La medicina Ippocratica era una medicina naturalistica che non imputava le origini delle malattie ad un dio malvagio. Salute e malattia erano considerati come degli eventi naturali da osservare e studiare con la ragione. L'uomo risponde alle stesse leggi che governano l'universo ed è proprio con queste leggi che governano l'universo che l'uomo va compreso. Nel Medioevo poi i barbieri erano anche dei chirurghi. L'approccio della medicina Ippocratica era un approccio olistico cioè considerava la persona nel suo complesso mirando al benessere mentale e non era invece un approccio allopatico come quello della medicina moderna che invece è incentrato sulla singola patologia. Il medico doveva conoscere lo stile di vita del paziente e la sua storia familiare. Il tutto chiaramente nel passato era empirico cioè la conoscenza del mondo derivava dai sensi. Si prediligeva l'esperienza diretta invece della conoscenza proveniente dalla teoria o stabilita da una autorità. Ancora oggi comunque sia resta valido il concetto ipocratico seppure come abbiamo visto abbia dei limiti. Però ancora oggi è sempre valido valutare il paziente nel suo complesso. Fra fine rinascimento e inizio dell'illuminismo si fecero dei balzi in avanti nel campo medico grazie alla rivoluzione scientifica che modernizzò gradualmente l'umanità. Così nel XVII secolo William Harvey comprese meglio il funzionamento del cuore umano e del sistema cardiovascolare umano stesso. Giunsero anche poi con il tempo le prime cure per la malaria e per il vaiolo attraverso il vaccino per esempio per il vaiolo. Con la rivoluzione francese anche negli obitori si cominciarono a studiare le malattie come il tifo o la tubercolosi. Gradualmente quindi l'interesse si spostò dal singolo alla collettività per mezzo di miglioramenti nella sanità pubblica al fine di tutelare il benessere della popolazione. Nel XIX secolo la crescita delle città industrializzate in Europa, Stati Uniti e Giappone provocò un forte afflusso di poveri dalle aree rurali alle aree urbanizzate e qui chiaramente nelle aree urbane non essendoci ancora delle leggi sull'igiene pubblica le condizioni igieniche erano pessime e cominciarono a propagare patologie come per esempio il colera, aumentò la mortalità infantile, propagò il tifo, la tubercolosi, la difterite, la scarlattina, la rosolia, la varicella e così via. Lo Stato a quel punto cercò ovviamente di risolvere questi problemi e Chadwick, riformista inglese, elaborò la teoria miasmatica per la quale i morbi sorgevano dai vapori fetidi dei poveri e quindi trovò una soluzione, costruire le fogne, migliorare la nettezza urbana e rendere le acque potabili. Però chiaramente questa teoria ad oggi è ormai superata perché poi con il tempo è stata soppiantata dalla teoria dei germi. Pasteur cominciò a comprendere meglio la microbiologia capendo quale fosse il microrganismo che per esempio andava ad inacidire il vino e sviluppò quindi un vaccino contro il colera e contro la rabbia. Koch elaborò i suoi postulati e scoprì il micobatterio responsabile della tubercolosi. Fleming isolò la penicillina casualmente. Furono poi anche gradualmente migliorati gli interventi chirurgici perché chiaramente prima di questo momento gli interventi chirurgici venivano eseguiti senza anestesia e quindi il dolore era estremo, la sofferenza era estrema e soprattutto senza antibiotici e quindi il rischio di infezioni post-operatorie era elevatissimo e chiaramente questi miglioramenti con l'avvento di anestetici e antibiotici comportarono appunto un crollo della mortalità intra-chirurgia e post-chirurgia. Le tecniche diagnostiche migliorarono ulteriormente attraverso l'invenzione da parte di Rothgen dei raggi X per poi arrivare anche all'invenzione della TAC, la tomografia assiale computerizzata. Nel 1949 le malattie mentali cominciarono a essere curate meglio con l'arrivo dei sali di litio e dei vari farmaci psicotropi gradualmente. Dopo la seconda guerra mondiale ci furono ulteriori progressi nella chirurgia. Nel 1954 a Boston negli Stati Uniti fu portato a termine il primo trapianto di organo. Era un trapianto renale su gemelli o mozigoti dove l'ibunosa oppressione non fu necessaria. Nel 1967 ci fu anche il primo trapianto di cuore e quindi chiaramente sembrò in quel momento che queste nuove tecniche, queste nuove tecnologie permettessero all'uomo di raggiungere l'immortalità. Ormai se analizziamo il periodo contemporaneo non ci uccidono più le malattie infettive, bensì quelle croniche, cioè quelle legate allo stile di vita come le malattie cardiovascolari, il diabete e il cancro. E chiaramente molte malattie ad oggi sono sempre più resistenti alle cure. Diversi studi hanno messo in luce che più siamo sani e più sentiamo la necessità di trattamenti medici. Malgrado le grandi conoscenze sul DNA e i traguardi terapeutici raggiunti, alcuni punti e obiettivi sono ancora scarsi perché sono poche le malattie che dipendono da un solo gene, nonostante la genetica comunque abbia fatto dei grandissimi balzi in avanti. L'epigenetica infatti ha dimostrato che l'habitat influenza l'espressione dei geni. Abbiamo raggiunto sì la longevità ma la medicina deve tenerci in vita purtroppo anche a scapito della nostra qualità di vita e può essere giusto questo o no?